C'è un Gas! Presto facciamo qualcosa! Prima di chiamare Otacon, dobbiamo farvi sentire Campbell e Nastascia che vi diranno su come uscire da questa reassatura di Gas. Diciamolo a Campbell. Hey, Gas, fai qualcosa! Hey, chiama Emery! Dovrebbe riuscire a dirti come superare i sistemi di sicurezza! Diciamolo anche a Nastascia. Snake, sei in pericolo! Vatele di io! Ma come? Non c'è nessuno che conosca questa base. Il dottor Henrik! Forse lui può fare qualcosa. Ma certo che qualcuno conosce questa base. Chiamiamo subito Otacon. Forse lui può fare qualcosa. Otacon, vieni ad aiutarci, per favore. Snake, quel detto antiproiettile non puoi suonarlo con un'arma ordinaria. Riesci ad aprire da lei la seratura di sicurezza. Ci provo. Cerca di reggere per un minuto. Non cerco di reggere. Dai, forza, sbrigati! Forza, sbrigati, accidenti! Resisti! Dai, fai in fretta, Otacon. Non c'è più tempo! Non c'è più tempo! Cerca di reggere ancora un po'. Otacon! Otacon! Ci sono quasi! Resisti! Ci sei quasi, ma fai alla svelta. Dai, presto! Devi aprire la serratura di sicurezza. Se non ce la facciamo resistere con questo gas, mettiamoci la maschera antigas. Fuori c'è il liquid che ci sta aspettando. Dai, Otacon, sbrigati ad aprire sta porta. Oh, finalmente ce l'hai fatta! Ce l'ho fatta! Snake, sto aprendo la porta! Complimenti! Otacon, mi fa piacere che hai aperto la porta. Ora che hai aperto la porta, corriamo subito all'inseguimento di Liquid. Grazie. Eccolo lì, Liquid Snake. Andiamo subito ad acciuffarlo. Dobbiamo ucciderlo e annientarlo una volta per tutti. Grazie. Grazie. Grazie.